La maggior parte dei candidati prende impegni e fa promesse dicendo se sarò eletto farò questo, farò quest'altro. Noi di Demos, Democrazia Solidale, a prescindere da queste elezioni e da come andranno, continueremo comunque a fare quello che abbiamo sempre fatto, fuori o dentro le istituzioni. Uno degli impegni è quello a favore dei giovani. Punto primo, dobbiamo partire dai giovani per rinnovare la politica, per educare alla partecipazione e all'impegno civico. Lo abbiamo fatto promuovendo il forum delle politiche giovanili e lo vogliamo fare realizzando il consiglio comunale dei giovani, fra i 15 e i 25 anni, affinché i loro rappresentanti possano esprimersi sulle ricadute che le politiche del comune hanno sulle nuove generazioni, dai trasporti all'urbanistica, dal sociale alla cultura, dal bilancio alle scuole. Punto secondo, ci impegneremo a promuovere stili di vita sani tra i giovani. Lo facciamo da 30 anni e vorremmo continuare a farlo con maggiore forza da dentro le istituzioni. Serve un grande progetto di prevenzione che coinvolga scuole, associazioni, famiglie, ASL, università, capace di leggere i bisogni dei nostri ragazzi e di organizzare risposte efficaci per evitare che l'unica possibilità di utilizzare il tempo libero sia stare davanti a un bar con un bicchiere in mano. Punto terzo, dobbiamo promuovere l'apertura di centri di aggregazione giovanile in ogni zona della città, posti dove si possa fare musica, cultura, amicizia, condivisione e infine il lavoro. Ci sono tanti beni pubblici, ambientali e culturali, che possono essere affidati a cooperative di giovani, magari formati dentro all'università di Cassino grazie ai vari percorsi di sostegno alla creazione di impresa per i neolaureati. Insomma, alla città di Cassino serve una vera e propria rivoluzione e le rivoluzioni le fanno i giovani. Per questo dobbiamo promuovere il loro protagonismo. Se anche tu credi che sia giusto scommettere sulle nuove generazioni, vota Demos e sostieni Enzo Salera, sindaco di Cassino. Grazie a tutti.